Benvenuti a 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 e ha sottratto potenzialmente risorse per ulteriori sviluppi. Questo è un primo escursus su quello che è accaduto nel 2017 dal punto di vista di Sergio De Vincenzi, dell'opposizione o comunque di metà legislatura perché così è. Ero sbrega, lei è presidente della seconda commissione, una commissione che conosce particolarmente bene quella che è l'economia, il lavoro e lo sviluppo economico in genere di questa regione. Allora anche a lei chiedo di fare un bilancio sull'attività della maggioranza, della regione in genere. De Vincenzi sottolineava diverse criticità. Innanzitutto saluto tutti i telespettatori. La riflessione che va fatta è che bisogna dividere ciò che è l'attività dell'Assemblea legislativa e ciò che è stata l'attività dell'Aggiunta, dell'esecutivo sul piano politico. Allora, io oggi faccio una riflessione velocissima su quella che è stata l'attività dell'Assemblea legislativa e in particolar modo della commissione che mi onoro di presiedere. Noi abbiamo rivisto, ritrattato la nuova legge sull'urbanistica, abbiamo fatto la nuova legge sul commercio, abbiamo rivisto la legge sul turismo. Cioè abbiamo, in qualche maniera, siamo entrati e cercando tra l'altro anche di coinvolgere il più possibile tutte le categorie e tutti i cittadini coinvolti in queste tematiche, riscrivendo in maniera importante, nel giro di un anno, sostanzialmente pezzi importanti per lo sviluppo di questo territorio. È tanto e poco, non lo so, però abbiamo messo tutto quello che era il nostro impegno per poter dare delle risposte precise e concrete ai cittadini e al mondo associativo che ci chiedeva risposte sui diversi temi da me elencati. Poi, come disse giustamente il collega Di Vincetti, ci sono poi delle scelte dell'esecutivo che possono essere condivise o no. Anche io tante volte non ho condiviso le scelte dell'esecutivo, pur stando in maggioranza, ho avuto anche modo, penso, di essere uno dei pochi consiglieri che ha il coraggio di dire in aula, questo me lo consenti, me lo vincendi, lo puoi riconoscere. Perché poi gli effetti non sono? Però, io sono uno, però quantomeno la mia dignità morale e personale non la metto al bando di nessuna maggioranza. Dunque, possiamo poi discutere se gli effetti di scelte, diciamo, dell'esecutivo possono essere giuste, sbagliate, poche o tante. Dico anche che l'Umbria in questi due anni e mezzo è stata attraversata da una crisi economica, come tutto il nostro paese, è stata attraversata purtroppo dall'effetto terremoto che ha comunque messo in difficoltà molte aziende, sia, diciamo così, nella parte diretta che nella parte indiretta, perché solamente quando vogliamo parlare di turismo, cioè magari colui che vuole venire o voleva venire a Perugia o Orvieto aveva paura del terremoto, magari, tra virgolette, qua non te ne sentiva neanche, però il concetto di Umbria con il terremoto metteva paura il turista a venire. Lì, devo dire, si è fatto tutto ciò che si poteva fare sicuramente meglio, però ci sono alcuni, diciamo, eventi su cui è difficile per tutti poter regiferare, se uno è di destra, di sinistra o di centro. Detto questo, concludo, sicuramente potevamo e dobbiamo fare ancora di più, però, ecco, non ci lasciamo andare da quello che io, in questi giorni, parlando di un tema come quello da questo gruppo, ho detto, dalla polemica stelle della campagna elettorale che si farà a marzo. I temi sono tanti, sono seri, affrontiamoli e cerchiamo di risolvere. No, riguardo a lei, brega, lei parlava prima di una ripresa economica, l'Umbria, diciamo, parte del PIL, una parte importante del PIL riguarda proprio il turismo, no? L'economia legata al turismo e che con il terremoto, chiaramente, sono cambiate diverse situazioni. Ecco, secondo lei o comunque in cosa è cambiata la programmazione regionale, il programma di legislatura a fronte di questo sisma del 2016 e comunque in questa legislatura si riuscirà a dare risposte conclusive a questo evento? Devo dire, l'effetto terremoto è stato devastante, specialmente sul tema turismo. Devo dire che si è cercato di fare il più possibile, forse alcuni effetti positivi, potremmo iniziarli a rivedere dalle prossime settimane, dai prossimi mesi. Credo che avremmo dovuto essere meno protagonisti singolarmente e far sì che potesse emergere di più il messaggio Umbria. Ci sono stati, secondo me, alcuni protagonismi personalistici troppo evidenti e c'è stato un poco vendere l'Umbria come andava venduta, lo dico con grande sincerità, non ho problemi ad ammetterlo. Ma dico anche dall'altra parte, non è facile gestire un evento come quello del terremoto che ti coglie di sorpresa e qualsiasi strumento metti in campo rischia di essere inefficace e di non essere giusto. Sicuramente si è accorso ai ripari con degli elementi, noi abbiamo appunto rivisto la legge cercando di venire incontro a tante situazioni, però capisci a Castelluccio lì la particolarità e l'attrazione era che i turisti andavano lì. E' fondamentale riportare il turismo lì e rivendere lì, fino a quando c'è un rischio che poi c'è tutto un meccanismo particolare che poi non convolge solo la regione ma che convolge lo Stato e il Governo centrale sono difficoltà. Però diciamo così, diciamo che nelle ultimi mesi c'è stato, come dato che lei dottore è anche un esperto di calcio, e so quanto i portieri fanno quegli slanci importanti per andare a togliere la palla sotto il setto. La parata sul setto. Ecco, la credo che negli ultimi mesi, negli ultimi settimane ci sia stato quello slancio, ecco speriamo che nelle prossime settimane potremmo avere anche dei minimi risultati importanti per rilanciare l'economia a partire dal modo quello del turismo. De Vincenzi, lei riallacciandomi sempre al turismo come diciamo motore, come volano per l'economia regionale, lei è anche rappresentante politico del comune di Perugia, quindi del comune capoluogo. L'Umbria ha sofferto rispetto magari alla regione Marche il fatto di essere piccola e che quindi il terremoto della Valnerina così alla gente è apparso come un terremoto dell'intera regione, si bloccò tutto nel 2016, è stato un anno particolarmente difficile e poi sta riprendendo, dobbiamo dire, nel 2017. Come l'ha vissuto questo periodo, questa lettura da un punto di vista diverso rispetto a quello regionale? O comunque lei le mette insieme chiaramente? È inevitabile, intanto una piccola chiosa a quello che diceva il collega Brega, cioè noi non possiamo scindere l'attività legislativa e quindi quello che avviene in assemblea legislativa dall'esecutivo. Siamo noi che ratifichiamo o meno il bilancio, siamo noi che diamo degli indirizzi di politica e quindi scindere le attività purtroppo troppo semplicistico. Questo lo dico perché poi in realtà su certi punti molti consiglieri di maggioranza si sono assolutamente adeguati a quelle che erano le imposizioni che venivano dall'alto. Quindi non ci dimentichiamo anche, torno a ripeterla, questa legge ad esempio del megadirettore che tutto sommato non serviva a sistemare delle situazioni piuttosto interne anziché generali di funzionamento. Per quanto riguarda l'economia, indubbiamente il terremoto ha creato tanti problemi, questo lo sappiamo, non solo alle popolazioni da Valnerina che in questi giorni stanno rivivendo anche dei momenti di grande difficoltà con questo freddo che comunque era annunciato. Ancora non tutte le casette sono state consegnate, quindi ancora ci sono parecchie situazioni da sistemare. Ma il problema centrale comunque del turismo è venuto al centro dell'attenzione dal sisma, ma le cause di un mancato sviluppo del turismo in Umbria sono strutturali. E noi in questi mesi, ma in questi due anni e mezzo abbiamo vissuto i tanti problemi di questa regione sotto il profilo ad esempio semplicemente dei trasporti. Com'è pensabile parlare di sviluppo del turismo se non riusciamo a mettere a sistema delle linee di collegamento serie e stabili, soprattutto e non occasionali. Si è molto parlato del Frecciarossa, ma comunque con tutte le questioni che possono interessare i diversi territori. Il problema vero è anche a Monte, se vogliamo. Perché? Perché nel momento in cui si privatizzano determinati servizi, e questo è uno dei trasporti, poi in prospettiva c'è anche la fusione ferrovia dello Stato con ANAS in prospettiva, cioè in prospettiva la ferrovia centrale Umbra attualmente è chiusa, ma è rientrata nell'ambito di ferrovia. Se le linee che dovrebbero garantire lo sviluppo dei territori non vengono sviluppate perché devono rientrare in una logica di mercato, è chiaro che certe aree saranno sempre più destinate allo spopolamento e da questo punto di vista anche la questione per esempio delle aree interne. Dal 2014, che è partita la strategia nazionale delle aree interne, noi abbiamo firmato praticamente il primo protocollo d'intesa a Orvieto, mi sembra la settimana scorsa o poco più. Quindi questa radice lunga perché poi lì perdiamo soldi per questo sviluppo attraverso servizi che sono sanità, trasporti e scuole. Quindi De Vincenzi lega al discorso economia, lavoro, quello di infrastrutture e trasporti chiaramente, perché poi il turismo stesso è legato a una serie di situazioni che riguardano proprio le infrastrutture e i trasporti. Brega, è un argomento che lei spesso affronta in seconda commissione questo? No, ma non solo io affronto spesso in seconda commissione, credo che come sa il collega, l'ultimo consiglio regionale abbiamo fatto su una mozione e io sono intervenuto e tra l'altro tornava la mozione in commissione per cercare di costruirla insieme, sostenendo in grandi linee quello che dice il collega. Noi dovremmo innanzitutto però in Umbria cercare di iniziare a ragionare non più da consiglieri comunali aggiunti, ma dovremmo iniziare a ragionare veramente da una classe dirigente regionale, perché una regione piccola come l'Umbria continua a ragionare di localismi e non ha capito che o ci serviamo insieme o andiamo a casa tutti quanti. Allora, qui si sente, chi vive a Perugia il Frecciarossa che retrocede d'Arezzo? Su questo sono assolutamente d'accordo. Chi vive a Terni il Frecciarossa, il Frecciarossa a Orte? Allora io ho detto, decidiamo di una cosa per tutti, innanzitutto l'emergenza, trasporti oramai la chiamo, va affrontata oggi nella fase di dire, diamo una risposta immediata, la migliore possibile, perché sono d'accordo, non è possibile che il capoluogo di regione, Perugia, sia sostanzialmente per raggiungere Roma, ci debba mettere tre ore se va bene. E credo che però sia assurdo oramai continuare a bucare le montagne per fare strade, l'Umbria credo che di strade ne abbastanza, deve manutentare quelle che ci sono, riconvergere secondo me alcune strade affinché chi passa possa secondo me pagare, perché l'E45, io non sono contrario, io credo che l'E45 vada valorizzata ma tutela degli Umbri, tanto per indenterci, ma comunque al di là delle strade oggi va investito sul ferro. Dunque noi dobbiamo creare l'infrastruttura ferroviaria che colleghi, innanzitutto Terni e Perugia, oggi Terni e Perugia, a parte che non c'è più il treno, ma comunque ci vogliono due ore e quaranta per prendere il treno, io mi ricordo, ci vogliono due ore e mezza, due ore e quaranta, è inammissibile, dunque dobbiamo creare un collegamento ferroviario che valorizzi l'Umbria e qui c'entra anche a quel punto il famoso aeroporto, perché non ha senso, altrimenti viene l'aeroporto così, che noi ogni anno come regione dobbiamo pagare, anche se oggi, devo dire, è gestito bene quant'altro. E dobbiamo fare il sistema. E' strano che la pensiamo allo stesso modo, ma perché nella vita le persone libere la pensano in maniera normale e oggi concludo nel dire, noi dobbiamo creare un sistema che consenta da Terni di velocizzare il collegamento con Roma e Perugia deve essere collegata con Firenze, perché questi devono essere due assi viari, Perugia, Firenze, Terni, Roma. Il allenamento del Preciarossa non pensa sia un primo? Ma l'allenamento del Preciarossa è una piccola risposta al problema, perché l'isolamento di Perugia, l'isolamento dell'aeroporto dell'Umbria non si risolve con l'allenamento, può essere sicuramente una risposta dovuta, ma è una piccola, piccolissima risposta, è un buco di partenza. Diceva di trovarsi d'accordo, Brega dice anche di mettere a pagamento, mi pare, la E45, no? Dico di valorizzarla per l'Umbria, oramai il tratto delle 45 noi abbiamo deciso di no, ma sanno tutti che sta partendo il progetto che ai confini della nostra regione del nord arriveranno ad investirla e noi avremo comunque di nuovo tutto il traffico pesante che percorrerà la E45 a discapito degli Umbri, senza vederci riconosciuto nulla. Inquilamento ambientale, via dicendo. De Vincenzi? Su questo tema, ma io non sono d'accordo, anche se il ragionamento che sta facendo il collega sul pedaggio dell'E45 ha una sua logica, noi personalmente, ma anche come gruppo non siamo d'accordo. Però c'è indubbiamente un tema che è questo della manutenzione delle strade, perché non basta fare le strade e poi bisogna garantirne e tenerle in ordine. Questo è un tema annoso. Però c'è anche da dire poi veramente come noi vogliamo valorizzare l'intero sistema Umbria, perché sono d'accordo sul fatto che non esiste soltanto Perugia, ma sul resto, per esempio, sull'aeroporto, che tipo di investimenti sono stati fatti, che tipo di politiche sono state organizzate, perché di buchi nell'acqua ne abbiamo fatti parecchi. Allora, si parla di valorizzazione di quest'aeroporto, ma che tipo di collegamento abbiamo pensato fra il San Francesco d'Assisi e Roma, ad esempio, fra il San Francesco d'Assisi e Firenze, perché è chiaro che le compagnie aeree cominciano ad avere interesse per uno scalo di questo genere se poi la gente è invogliata perché magari in un'ora e mezza sta a Roma o anche meno in un'ora sta a Firenze, perché allora si permette di fare un gioco ad ampio respiro. E soprattutto che tipo di politica abbiamo messo in piedi per evitare che ci sia un turismo soltanto del mordi e fuggi, cioè quello della giornata, delle due giornate, perché quello che conta è il pernottamento. Quindi su questi e anche sulla messa a sistema di tutta la rete alberghiera e di agriturismi, perché non basta soltanto riempirci la bocca delle eccellenze Umbre, quando su questo peraltro molto dovremmo ancora affrontare, in parte anch'io ho fatto un'interrogazione su prodotti che vengono commercializzati in Umbria con marchio Colfiorito, per esempio, o piuttosto che la Valnerina, Norcia, e però vengono da altrove. Su questi temi noi dovremmo fare un ragionamento senza nulla togliere al rispetto delle norme. Allora, abbiamo otto minuti, poco più. Due domande ancora avrei. Allora, stiamo rivisando questa trasmissione oggi, lunedì 18 dicembre, domani, cioè martedì 19, cioè il Consiglio regionale. Si parlerà di bilancio rispetto al prossimo triennio, tre quarti delle risorse è riservato alla sanità. Questo è un dato di fatto, cioè parliamo di un miliardo e 600 mila euro circa. Ed è proprio sull'organizzazione e sui livelli della sanità regionale che vi chiedo un commento. Ricomincio da lei, De Vincenzo. Allora, intanto io, vabbè, potremmo dire molto. Intanto siamo sotto la spada di Damocle del bilancio nazionale, del Fondo Sanitario Nazionale. Per cui dovrebbero, mancano all'appello un miliardo e 400 milioni a livello nazionale. Il rischio è che se non viene reintegrato quel fondo in prospettiva ne risulteranno danneggiati la garanzia dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza. Quindi questa è la prima questione. Poi vogliamo parlare di piano sanitario regionale. Noi cominciamo adesso la discussione, ma il piano sanitario arriva dopo parecchi anni dall'ultimo che è stato effettuato, se non erro, nel 2009. Quindi significa che dovremmo rimettere a ragionarci, soprattutto, lo dovranno fare le strutture sanitarie, sperando che siano ascoltate, perché dalla base vengono parecchie lamentele, ma non solo degli operatori professionali che lavorano in condizioni di male organizzazione e quindi di aumento del rischio che si corre in sanità, ma anche della mancata risposta alle esigenze dei pazienti. Adesso si usa il termine clienti, ma questo francamente non ci piace, perché si parla anche di aziende purtroppo. Questo per descrivere anche quel clima valoriale che assolutamente impedisce di rimettere al centro sia dell'attività politica, dell'attività assistenziale e la persona a tutto tondo. Quindi da questo punto di vista noi ci auguriamo che col piano sanitario si possa dare una svolta, ma non ci dimentichiamo che il 70% di queste risorse che sono attualmente stanziate vanno per la cronicità. Quindi da questo punto di vista se vanno per cronicità rischiamo anche di penalizzare molto le specialità e quindi nello stesso tempo se andiamo a fare un quadro complessivo il paziente ne risulta danneggiato. Diversi parametri danno la sanità Umbra comunque al di là delle criticità, non so se condivisibili o meno condivisibili da parte sua che sottolineava De Vincenzi, molti parametri danno la sanità Umbra comunque tra i primissimi posti a livello nazionale. Lei che ne pensa? Io ho una piccola precisazione rispetto al tempo di infrastrutture, due secondi, io non sono perché ci sia la tassa sulle 45, dico soltanto che vedendo ciò che accade nelle nostre regioni limitrofe c'è il rischio che aumenterà quel traffico, noi rischiamo di essere in mezzo e di far danneggiare gli Umbri. Ora dico una soluzione, io non lo so, però dico che fa finta di nulla, non serve a nessuno, per fare una soluzione per questo, ecco diciamo così. Sulla sanità, sanità credo che sia riconosciuto da tutti e dai diversi governi nazionali che negli anni hanno passato a livello nazionale appunto il governo, che la sanità Umbra sia una delle eccellenze del nostro paese, questo non lo dice oggi il governo Gentiloni, non l'ha detto ieri il governo Renzi, ma l'ha detto anche il governo Berlusconi negli anni passati, dunque che la filiera della sanità Umbra sia dentro a un percorso di una sanità regionale al riferimento nazionale è nei dati dagli ultimi decenni. Poi sicuramente, oggi lo diceva il collega anche qui di Vincenti, noi abbiamo un'opportunità nelle prossime settimane, quello di riscrivere il piano sanitario regionale, cioè di riscrivere quelle che saranno le linee su cui il piano sanitario regionale dovrà ispirarsi tenendo conto che sono cambiate le esigenze diciamo dei pazienti, che stanno cambiando le esigenze dei territori, uno dei temi che secondo me l'Umbria dovrà aprire, per esempio è di tutta quell'assistenza sociale delle persone meno ambienti che praticamente oggi sono a casa e che le famiglie hanno così, io sono perché anche l'Umbria apre la possibilità alle famiglie di scegliersi in qualche maniera la libertà dell'assistenza da fare a casa, in qualche maniera sostenuta e non che ci sia l'obbligo di, come avviene sostanzialmente quasi all'80% oggi, di avvalersi diciamo del sostegno di alcune strutture diciamo che vengono a casa, di recuperazioni sociali e quant'altro, che vada a sopperire diciamo a un certo tipo di assistenza, io sono perché le famiglie possono avere un budget come succede qua o mai in quasi tutte le regioni italiane e decidere loro se o avere l'opzione di un'assistenza diciamo che loro scelgono di un altro tipo. Dunque l'opportunità vera oggi è riscriviamo insieme il piano sanitario, mettiamo da una parte maggioranza e posizione, rischiamo le regole per le esigenze vere in un tema sociale e sanitario che è fondamentale Allora, vedete mancano poco più di due minuti, avevo domande sull'ambiente e altre ancora ma chiudiamo con temi di carattere etico valoriale su cui spesso De Vincenzi è intervenuto ma anche lei, Brega, mi sembra siate abbastanza vicini da questo punto di vista. Ecco, partiamo dell'ultima novità, insomma, approvata dal Senato la legge sulle fine vita, lei ha toccato altri argomenti nel corso di questo pezzo di legislatura, comincio da lei. Ma diciamo che il PD soffre di questo bisogno di affermare, di tutelare i diritti, il problema vero è che in questa, cioè una cosa di cui veramente l'Italia a giudicare da quello che sta accadendo aveva bisogno era quello della tutela della famiglia e questo è venuto a mancare in termini generali e complessivi. Abbiamo assistito invece a una serie di leggi, vediamo la Cirinna, piuttosto che appunto anche lo stesso Biotestamento, che ci dicono che il modello che noi stiamo affermando è quello dell'individualismo, cioè quello del diritto ipotetico, perché poi su questo possiamo discutere, del singolo individuo, della singola persona e questo è a scapito assolutamente dell'essere uomo. Prima Brega diceva è l'Umbria che deve insieme reagire, allora per essere insieme come ci vogliamo essere? Insieme stando da soli o insieme collaborando? La famiglia è il primo contesto nel quale si collabora e si sopravvive. Prego, invitiamo con lei, poi se ci sono due o tre secondi vi faccio una domanda politica invece. Velocissimo, condivido con dei vincenti che la famiglia è stata in quest'ultimo periodo, non a livello umbro soltanto, ma anche a livello nazionale, diciamo non è stata presa nelle dovute considerazioni. Considerando che la famiglia, come lo riconosce anche la Costituzione, ma come credo negli anni, ha svolto in Italia un tema sociale, ha ammortizzato tante situazioni. Dunque io il tema famiglia lo vedrei più come un aspetto anche laico, non solo spettamente cattolico e dunque condivido le riflessioni del collega dove negli ultimi anni la famiglia non è stata presa nelle dovute considerazioni, specialmente inserita nel contesto sociale. Però questo, e lo dico convinto, non ci deve non dire come è giusto investire su questo, credo che sia stato giusto andare a riconoscere i diritti di tutti. Le due cose non stanno lontano, io credo che le due cose siano insieme. È stato chiarissimo. Pochi secondi. De Vincenzi, tra poco entriremo, probabilmente prima di fine anno, il Presidente della Repubblica scioglierà le Camere. Si andrà con molta probabilità a votare nei primi giorni nel mese di marzo. Cosa cambierà in questo periodo nella, diciamo, attività di politica regionale? Cosa potrà cambiare anche successivamente alla luce dei risultati che verranno? Qui veramente servirebbe la spera di cristallo. I risultati sono molti, no? Ma no, io a giudicare da quello che sto vedendo temo che andrà a votare sempre meno gente e la politica... Il 40% prima, mi pare di aver capito. Sì, sì. E' molto pessimista su chi andrà a votare. No, io sono pessimista perché vedo che non viene rimessa la persona e l'interesse della persona al centro. Siccome diventano solo giochi di potere e sempre meno persone hanno a che fare con questi giochi di potere, andrà a votare sempre. Quindi vincerà l'assenzionismo. Tendenzialmente sì, la politica diventa sempre più autoreferenziale. Brega, però questo lui ne parla come se lui non c'entrasse, ma su questo tema siamo convolti tutti perché la nuova legge elettorale è stata voluta sostanzialmente, sostanzialmente dal centro-destra. Sono assolutamente critico. Dunque dico, questo tema raccoglie tutti. A lei non piace la legge elettorale questa, Vincenzi o no? A lei non piace assolutamente no. No, a lei piace o no? No, non piace perché non risolve problemi della vicinanza all'elettore. Detto questo, credo che stia a noi dimostrare il contrario e di riportare la gente a votare e chiedere il consenso per le cose che andremo a fare. Con l'occasione ci darai la possibilità di fare gli auguri a tutti e di buone feste a tutti gli Umbri. Unisco gli auguri a tutti gli Umbri veramente che questo anno possa portare novità positive. Grazie per averci seguito, gli auguri chiaramente anche da tutti i giornalisti dell'ufficio stampa, dai tecnici delle centro-video, da tutti noi per queste feste natalizie. Grazie e ci vediamo nel 2018. Grazie a tutti.